Ho iniziato la mia carriera professionale in CMH circa 17 anni fa come software engineer e dal primo momento è stato immediatamente chiaro quale fosse il goal della mia azienda quello di sviluppare macchinari in grado di nutrire e costruire il mondo intorno a me. Insieme al mio team ho sviluppato in questi anni circa 70 patent, tutte relative all'introduzione dell'automazione di sistemi di controllo automatizzati per le macchine movimento terra. Una delle patent a cui sono più affezionato è l'introduzione di un sistema di controllo avanzato capace di migliorare i movimenti sincronizzati di un compact wheel loader, migliorando di molto la precisione del movimento stesso e la produttività del marchio. Collaborazione, inclusività, un mindset innovativo sono stati intorno a me per circa 20 anni e una grossa parte della mia crescita come professionista sia come uomo che come ingegnere la devo a CMH, la mia azienda, la mia famiglia. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!